Radio Flumeri con Valeria Albanese, ormai più di una realtà per quest'Ariano, cosa pensi di questa grande vittoria 76-51 contro Viterbo? Abbiamo lavorato molto questa settimana per riuscire a bloccarle, non fargli fare quello che loro sanno fare, siamo impegnate, vogliamo vincere e non va bene. Cosa vuol dire per te giocare in questi palcoscenici importanti da arianese? Per me sto sognando, non mi sembra vero e giocare qui nella mia città penso che non posso chiederti meglio. Un ringraziamento particolare al coach che ti sta dando questa grandissima opportunità di farti valere contro avversari difficilissimi? Sì, crede in me e io gli do tutta la fiducia in me e quindi lotto in campo per lei. L'ambizione di Valeria Albanese per questo campionato? Aumentare il minutaggio, giocare sempre di più e meglio. Mettere qualche domanda per Valeria? No, i tuoi miglioramenti rispetto all'anno scorso sono stati incredibili, si vede sul campo, hai sempre più fiducia nei tuoi mezzi. Sì, grazie appunto a Iris che mi dà fiducia, quindi riesco a essere me stessa in campo. Va bene, grazie. Complimenti Valeria Albanese, ciao, grazie. 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 Grazie.